La macchina l'ho già fatta, no? Ma mi dice, elimina giocatori, elimina avversari, ma... Ah... No, non ho capito, elimina avversari, ma non me lo fa fare, so 0 su 10. E poi mi ha ammazzato i giocatori. Ma cazzo, ne so, sto gioco, scemo. Ripristina gli scudi e io devo andare a Mega City. Devo trovare degli scudi e devo trovare degli scudi e andare sul grind a ricaricarmi gli scudi. Almeno 100. 100 di scudo devo ricaricarmelo sul grind, praticamente. Cioè, sulle linee quando fai il parkour sopra. Non so se voi l'avete fatta, ma la cazzo di missione. Io ho provato ad andare qua, dove c'è Godzilla, sul palazzo di Godzilla. Chi cazzo è questo, ma... Amico dei Pirinei, ma chi cazzo è? È amico di Alex Pelle! Nooo, sono sceso troppo in giù! Ma non c'è un cazzo là sopra. Eh, ho capito, devo andare sul grind, mi dice qua, per fare la missione. Ah, questo è il ventilatore, fai! Bravo! Così ho fatto un'altra cosa, ho fatto. Eh, io devo trovare sto cazzo di grind, non lo trovo mai. Madonna, quanto cazzo è profondo! Di chi è sta amicizia? Ma... E nella mia testa c'è la mafottiti, e invece poi mi son trattenuto. Facciamo un fucile assalto? Eh sì, facciamo un fucile assalto. Oh, fucile punte? Eh, no. Dai, però! Ma dammi una cazzo, due scudi, perché io c'ho già lo scudo grosso. Però se non mi dai lo scudo, è sopra. C'ho già il coso per gli scudi, le foglie... Ma che cazzo è caduto? Ah, è caduto a mano. Vabbè, ho detto, ma che cazzo è? Ah, ecco, ecco, li trovati. Ora, devo andare soltanto su? Vai! Ma al contrario, mafott, il gioco. Al contrario mi ha andato il gioco. Ma tacci sua. Giusto? A me mi carico gli scudi, posso? Ok, vai, vai, bravo, 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 bravo. Vai, vai, fai la missione. Fai la missione, fai la missione, fai la missione, fai la missione. Fai la missione, fai la missione! Ho fatto la missione, il culo. Fatto, ora possiamo andare via se volete. Ho fatto quello che dovevo fare, fregamento. Ho finito di fare quello che dovevo fare. Oh, marasma d'oro. Sì, piacerebbe. Sono da voi, fa un po'. Sto facendo grind per venire a voi. Yuhuu! Yuhuu! Oh, è vero che ci sono i cosi da distruggere qua. I bersagli, devo distruggere i bersagli, porco, giuda. Fatto. Ho distrutto i bersagli. Ho fatto un'altra missione. Yuh, sto a fare missioni di due missioni. Oh, e tu qua? Già, le cose ci fanno interesse. Manno, ma tu l'hai fatta quella missione che devi salire sul grind e sparare i bersagli? La stoffa per farcela. Come mangiare i tuoi aioli alle quelli di spazio. C'è una cassa sopra, là sotto, sotto. Io adesso l'ho fatta, fa un po' tu. Porca, sono volato da sotto. Eh, vabbè, ma quante cazzo ci sono? 27? Eh dai, non si rompe. Chi cazzo è? Ah, è Claudio. Figa, quello che mi ha richiesto l'amicizia su Epic. Non so chi cazzo è, chi mi richiede l'amicizia. È il suo amico, è il suo amico. È il suo amico, sì. È l'amico, poi si viene a scoprire che invece è Dead, che ha cambiato soprannome. Basta, cancelliamolo. Eh, subito! Ma dove? Sì. No, no, ma chi? Devi dire, Max, finché tu non dici il nome giusto. Ma, Max, com'è che era quando hai fatto con me? Chi? Il merda! Ma, ma figurati, ma figurati se Andrea lo fa venire. Guarda, piuttosto scende, sale su Claudio, lo mina, e poi dopo di scende e poi può stare. Ah sì, sei imbriato da solo con le sue mani, cioè poteva chiedere scusa. A chi interessava la scusa, però non ha fatto un caso. Ma dove siete? Siete sopra? Mary Poppins? Ma hai visto, Manu, che sembra di stare su Cyberpunk, su sta cazzo di città? È identica! Oh, c'è una cazzo. Ma qua? No, perché è indistruttibile sto muro. Mi sa che è dentro proprio quel palazzo. Con un botto. Sei morto? No? Ah, qua ce n'è una. C'è un drago, uno o due o cose. Oh, chihuahua! Mestri, uau, uau. Ma qua c'era gente, ma io non vedo più nessuno. Adesso, vorrei portare a sfiga, però... Ma siamo dentro la città? Siamo ancora dentro la zona? Dai, non mi sa più le cose. Eh, appunto, è quello. Ma che scherzo è successo qua? Madonna, quante roba c'è qua? Quante cazzo di cazzo sto trovando? Solo cazzo, solo cazzo. Oh, qualcuno sta sparando. È spawnato il tizio con lo là dei cattini col bancale, là. Con qualcosa strano. Ma perché non riesco a pia sopra quello? È davanti, è davanti, è davanti. C'è davanti a 74 metri. Guarda davanti a me. Nuotatore e guerriero. Mentre noi si occupi di salute e scudi parziali, tranne che all'interno della tempesta. Non da fanculo, se vuoi. È qua davanti a me il tizio, strano. Ma quello che faccio? Io gli sparo? Però qualcuno deve essere con me, perché almeno... Eh, qua c'è anche gente. Mamma... C'è davanti, eccoli là. Eh, io li metto qua sopra, ragazzi. Infine, fa malissimo sta cosa, se lo metto a città. Shotato. E uno è andato. Eh, ma va lì lo shotato. Ma va lì lo shotato, eh. Sì, ba-dam, ba-dam. Shotato un altro, e manca quello. Va, è morto, è shotato. Oh, stanno sparando. Non capisco da dove... Ah, lei... Eh, ho capito. Io non ho spazio per la scheda. Ma andiamo, andiamo, andiamo. Tu riprendi la scheda tu. Eh, te la devi dire, te la dice. Te la dice dove è la stessa equipaggi, te lo dice. Eh, boh, ti dice... Ti dà tipo una specie di... Di sentiero da seguire. Max, di seguire sentiero. Tu cazzo, quello che sta qua, pure. Guadalupe del grinding. Ma vaffanculo, mamma la dà. Senti, bella cosa, butta me la giù, la rindo io a sto punto, allora. Cioè, non sai dov'è. Buttala giù. Eccola, è qua sotto. È qua sotto proprio. Vediamo come cazzo si arriva qua sotto? Volando? Sì, sì, prendi, prendi. Tant'io so a posto. Ma un'issima di va qua sotto? Ah, guarda, 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 qua. Qua, qua. Beh, ho fatto un'altra sfida a fare. E la taglia è stata rubata, quindi... C'è gente dove siamo noi. A chi va ocelot? Mo? Un altro fusile malasma, giustamente. E prendilo! Acci su, ah oh, lo fa così. Rompi tutto, rompi tutto, provi tutti. No, ho fatto la stronzata. Vedete, ma va. Oggi ho che c'è qualcuno vicino, eh. Mi ha segnato che c'era qualcuno con il driving. Ma è dentro che c'è... Eh, ma va, a posto. Grazie, grazie, grazie. Ma guarda che sto stronzo. Eh, oggi ho visto qualcuno che usava... Ecco, vedi, la funivia qua. Stanno usando. Ti metto qua e aspetto, così. Salve, è proprio pombo. Ti immagini? Eh, uno è intramidi. Max dentro. Max gli spara. Poi gli sceglie due col fucile che gli sparano addosso. Ma c'è una moschetta qua vicino? Eh, ma sta attenti che c'è gente qua vicino. Non so dove, ma c'è gente. Eccolo, l'ho visto. Sta a far su e giù con l'amico banana. Sono là in fondo. Sta facendo i glitch, sì, sì. No, no, sta facendo il glitch perché non può fare sesso nella vita reale, quindi fa su e giù nella vita finta. Ma? Come c'è il glitch? E che cazzo il glitch è? Ah, sì. E praticamente non hai 150 scudi, ma puoi avere finito a 2000 praticamente i scudi. Sì, perché ti inculano la manetta e ne hai sempre fatto che se ti becca non so cazzo i tuoi. Oddio, faccio che ho due chiavi. Aspetta, no, vado a vedere una cosa qua. Guarda il tizio sopra. Voi intanto andate. C'era questo qua. Show di merda, no. Non riesco a trovare la tizia con cui parlare. Colpi del cecchino? Sì, ho sbagliato a schiacciare il tasto. Ce ne ho 30. No, no, prendili tu. Chi cazzo li usa? Io non li uso. Ho dietro perché stavo andato a parlare con una tizia, ma non l'ho trovata. Streets96 ha abbandonato il gruppo dei figli. Ah, anche a posto. Stanno andando vicino a voi, no? Ma cos'è, è sempre là o epico? Tomax. Che cazzo? Oh, cazzo. Devo ricaricare la batteria del telefono. Che stava a 5%. La batteria del telefono si scaricava e mi sentivate a tratti e poi... Oh, non d'ho cresciato, no? E saltate il telefono perché devo ricaricare. Perché proprio? La cazzata qua ogni volta che lo fa. E io c'ho la roba mitica qua, ma che cazzo? Ah, epico. Mitraglietta posso prenderla. E davanti stanno sparando. Praticamente qua dietro alla montagna. Ah, niente, sono qua vicino. Pensavo fossero un pochettino un po' più lontani, ma sono proprio qua davanti a me. E di fianco ce ne sono altri col cecchino. Qua, 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 sali, sali più su. Qua sotto stanno sparando altri. Eccoli qua, sono sotto da me. Eccolo. Anonimo. Amori, pronso. Ci c'ho mai il cazzo. E' ammazzato? Ecco, eccolo, è lì in fondo. Eh, stanno sparando a me. Quanti tutti i cazzo li stanno sparando? Cioè, sparando a me io non li vedo, ma loro li vedono. Ma scusate un attimo. L'avevo visto, ho visto? Arrivano da noi? Come è dietro qua? No, aspetta. E' davanti, è davanti, è davanti, è davanti. E' là in fondo. Qua dicevo io, ma dietro dove? Ah, sono qua sotto loro. Sì, sono qua sotto, sono qua sotto anche sul doce del ponte, mi sa. Non siamo, oh, in 37 secondi abbiamo. Eh, se vuoi andiamo più a ma... Oh, ma hanno sparato da dove? L'ho visto? E' qua sotto, praticamente. Preso. Diabuto da giù. E davanti ce ne sta un altro, ma mi sa che l'hanno ammazzato, infatti. È là in fondo. Preso, ho ucciso io. Un altro anonimo. Vabbè, ma manu, manu, allontaniamoci. Perché dobbiamo, dobbiamo andare lontano. Cioè, la tempesta che fa 3 secondi parte. Vai, vai sotto. Che cazzo hai fatto? Ah, vai, 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 sì, sì, questa cosa qua. Manu, buttati poi da qua che c'è sta cosa qua. Wiii! Che volo! Eh, siamo arrivati nella zona. Possiamo... Ah, c'è già il coso, eh? No, no, ma non c'è qualcuno qua. C'è il coso lì. Come cazzo si chiama quel coso là? C'è l'isola. Non dei famosi, però. Eh, sì, c'è l'isola sopra. E c'è già qualc... Ma sopra dice che c'è qualcuno? Non l'hanno... Non me lo dà? Ma andiamo lì, senti. Conquistato. Ma dai. No, non è ancora conquistato. Sì, io sono già su. No, perché su non è proprio conquistato ancora. C'è regione male. Ma tanto ci mette mezz'ora per... per accendere i cosi. Ma tanto ci mette mezz'ora a mo' per fare cosa. Eh, quello l'ho visto. Dovrebbe essere appena sali quel coso. Comunque lo dovremmo vedere, penso. Sì, ma quanto cazzo sono i livelli, 1,36, 1,40, 2, 3 partite. Così Manu fa anche la sfida. Max, Max, sali su che fai la sfida. Vieni, guarda, c'è la sfida, vieni. Ha capito? Molto, 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 ma la sfida non la fa più. Vabbè, ma uno, non lo via, ma, guarda. Fatto, vai. Tu le tre mano le hai fatte la sfida a me. C'è un botto di fucile. Guarda, 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 guarda. Il fucile è potenziato, ha impulsi. Che poi non ho capito se è buono o no. Buono. Bene. Ma, Max, io ho buttato giù questo qua mitico. Ma scusate. Aspettate, guarda una cosa. 38 Eh, sì, fa molto male più questo. Ma? Mi sti inadenato? No. Eh, ma tu c'hai il cecchino, io c'ho un cazzo. Eh, siamo fuori dalla zona, io non so come dirlo. Allora, ho trovato... Aspetta, 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 aspetta. C'è un coso qua da qualche pa... Qua, qua. Qua, qua, qua da me. C'è il Boeing per saltare. Eh, lì dove ho puntato? Eh, niente, ormai. Ma? Ma io sono morto, mi stanno sparando. Mi stanno sparando addosso, praticamente. Come ce l'hai sopra? Non lo vedo neanche. Ma che cazzo? Ah, davanti a me? Manco l'avevo visti. Oh, oh, ce l'avete dietro, dietro! Ce n'è dietro uno! Ma no, ma no, ma no, ce n'è... Madonna, che sciottata. E gliela pureva solo quello. Dai, non corre il personaggio! Mizzora, perché non corre? Eh, mezzora. Andiamo, andiamo lì dentro. Andiamo, sì, andiamo, sì, andiamo lì, andiamo lì, andiamo lì. Stiamo sopra, più che altro. Eh, ma pian piano entriamo dentro. Se corresse il personaggio, resta lì che si giuccia il cazzo da solo. Ecco, cammina! Io non capisco, sto a dire il comando per correre, cammina. Eh, ma c'è la stamina verde, ma non me la segna. Cioè, non mi fa correre. Eh, ma non mi fa... Eh, se rimanevi la mezz'ora è... Ah, non sale, guarda, va, lui. Se si spompa! Fa come la pina, mi spompa. Un è morto, un altro è morto. Quanta gente c'è lì sotto? Vai, vai, un altro è morto. Nel mondo è morto lì sotto. Ah, manca quello lì, manca quello là. No, no, c'è un altro nel fondo. Cioè, ne so due, so due, so due, so due, so due. Ne mancano due, scendiamo, scendiamo, scendiamo. Perché dopo almeno siamo... Siamo... Reso... Eh, la madonna, questo fa malissimo. Ma che sei matto? Ma che ce ne sta un altro? Eccolo là, eccolo là. Morti. Siamo noi tre contro due. Penso quelli col cecchino che c'erano prima lì in fondo. E quindi sarebbe meglio se noi stiamo in un punto alto o almeno che vedi... Oh. È appunto quello. O che almeno li vediamo, perché sennò No, non vediamo nessuno. Ah, anch'io ho visto un pochettino. Eh, ho notato. Me? No, io ero dietro, praticamente. Ma tanto, sicuramente come è successo a me, a Claudio. Becchiamo gli ultimi due che sono dei cheater e non vedi più un cazzo. Ah, davanti a noi è... Se si estendiamo ancora qua sopra siamo dentro l'aria, perché... Ah, ma è Max. Senti, ho dei passi dietro, diciamo. Ma chi cazzo è? Bastava parlare, eh. E mi dai... Eh, 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 eh. Sono in due, sono in due. Tranne se non rianimano il tizio. Un ufficio da impulsi e ho accertato un bot di persone. Credo che mi hanno inviato un video di cinque secondi. Ma io sono dietro di voi. Credo che Minozzi è appena entrato là. Ma? Dove là dentro? Le hai visti? Oh, non ti mettere scoperto. È Max. Sull'orlo del coso. Ma potrebbe essere anche dietro, eh. Sono dietro, sono dietro, sono dietro, sono dietro. Dove eravamo noi prima, dove eravamo noi prima. Ce l'ho davanti? Eh, lui mi ha visto, mi sa. Con la spada c'ho. C'ho la spada. C'ho la spada. Non c'è più la spada. Eh, certo. Vai, vai, uno è andato, 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 è andato. Guarda, io gli spado, io gli faccio un cazzo. Eh, vaffanculo. Maronna san. Questo cazzo di cosa è impulsi, poi, ciao. Ma che cos'è? Ma che cos'è successo? Mamma mia. Guarda tanta roba che ho fatto. Elimini avversari. Eh, finalmente me l'hai segnata, cazzo. Era mezz'ora che la stavo facendo, era mezz'ora.